Benvenuti alla vecchia fattoria! I can show you the world, shining, swimming is plenty, tell me princess, now where do you last lay you? How do you sigh? I can hope in your eyes, take your wonder by wonder, all the sad things I wonder, all the magic can burn me, come on you boy! I'll never find us the point of view, no one to tell us now, where to go, say we're all dreaming of you. I can hope in your eyes, take your wonder, all the magic can burn me, come on you boy! Anche questa è Verona, anche questa è la nostra provincia, è il primo dei premi speciali, quello riservato alle aziende che si sono distinte in campo sociale. Io invito a questo punto sul palco Cristina Roncolato e le figlie Giulia e Cristina Lovato, che sono rappresentanti della società agricola Vecchia Fattoria di Cristina Roncolato per consegnare il premio speciale della Camera di Commercio alla società agricola Vecchia Fattoria di Cristina Roncolato di San Pietro di Morubio. Invitiamo anche Claudio Valente come presidente di Coldiretti, ricordiamo che cos'è questa società che è attiva da oltre vent'anni e che si dedica all'attività agricola che è stata convertita immediatamente al metodo di coltivazione biologico. Contestualmente è stato realizzato l'impianto boschivo con specie di alberi tipici della zona, poi si è dato avvio anche ad attività di lattiche per le scuole, ad attività di grest estivo, alle domeniche dedicate alle famiglie, all'apertura dei centri per anziani. È un progetto innovativo, è stato riconosciuto e premiato con l'Oscar Green 2012, il concorso nazionale promosso proprio da Coldiretti. L'azienda infatti rappresenta un'autentica novità perché svolge un'attività multiforme realizzando terapia equestre e dopo scuola, come avete visto, con bambini diversamente abili, con attività di teatro, attività di musica, di burattini. Un'impresa che ha saputo conciliare l'attività agricola, la passione e il coraggio mettendo al primo posto i valori della persona, anche rispetto al profitto economico. Ma i risultati sono stati esaltanti su entrambi i versanti e questa è una cosa che vale la pena sottolineare. Ricordiamo che il 2015 è stata premiata dalla Camera di Commercio nell'ambito del concorso Il Giusto Tempo che era dedicato alle imprese veronesi che hanno adottato al loro interno forme di organizzazione del lavoro finalizzata proprio al bilanciamento dei tempi di vita e di lavoro, migliorando il benessere dei lavoratori con ricadute virtuose anche sulle performance aziendali. Insomma si può fare così, perché tutti siamo di corsa, anche io magari perché devo parlare velocemente, però siamo di corsa, però si può mettere al primo posto la persona senza scordare anche quello che è il profitto economico. Sicuramente, siamo un'azienda un po' particolare volta al guadagno sociale e al benessere della vita in generale. Abbiamo avuto tante soddisfazioni, questa è una grande soddisfazione, quasi in attesa devo dire. Vi ringrazio per il gesto e per il segno che Verona ci ha dato di sostenerci in questo momento in cui lavorare col sociale non è facile, anche perché le persone in difficoltà sono sempre di più anche nel nostro territorio così ricco e così importante. Grazie. Allora, posso dire che, insomma lo vedo un po' con gli occhi lucidi Claudio, Penso che sia una bella occasione in questa grandiosa manifestazione una perla come questa, perché come diceva la signora Lovato, oggi la crisi c'è anche nella nostra zona, ci sono situazioni difficilissime che solamente la solidarietà, ancora prima dell'economia, può sostenere e portare in positività. Perciò io vorrei ringraziare la vecchia fattoria, non è l'unica, perché per fortuna Verona si sta distinguendo per tante altre realtà e questo grazie alla bontà, alla generosità dei veronesi che forse non sempre è riconosciuta. Grazie Verona. Grazie, sono le belle storie che ci piace raccontare, mettetevi magari in favore delle telecamere e dei fotografi, Andrea Prando e Claudio Valente per la consegna di questo premio speciale per l'attività svolta nel sociale alla società agricola Vecchia Fattoria di Cristina Roncolato di San Pietro di Morubio. Grazie ancora per... Grazie. 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 Grazie.